Eccoci qua con Francesco, bello caldo e nuovo, nuovo insomma ormai, vabbè, trainer alla sua prima intervista con me. Allora, Franci, fra l'altro ti sei scelto tutti i temi belli tosti. Allora, i test, i test che una ragazza ti fa e poi dentro la quale cascano tutti, no? Poi c'è quelli novizi. Allora, cosa intendi con test? Bene, allora, spesso capita che le ragazze facciano delle domande scomode, domande che mettono in seria difficoltà lo studente. Innanzitutto, per riconoscerle basta capire, nel momento in cui ci viene posta la domanda, se il nostro cervello comincia o meno a lavorare per rispondere. Ad esempio, se chiedo allo studente il suo nome, risponderà subito. Mentre se gli chiedo una cosa del tipo, come mai sei single da così tanto tempo, la risposta non sarà altrettanto pronta ed immediata. Altri esempi possono essere come mai hai avuto solo una ragazza o hai davvero avuto tutte queste ragazze, fai così con tutte, fermi tutte così, eccetera, eccetera. Cosa ci facevi su Tinder? Perché sei su Tinder? Sì, assolutamente giusto. Cioè, sono tutte quelle domande di congruenza che una ragazza ti fa per capire, poi dipende in che modo te le fa, in che ambito, in che situazioni, per capire quanto sei credibile a tu oggi in una determinata situazione, piuttosto che per sentire la risposta e se è in linea con quello che lei pensa, no? Se ti dice e ti chiede perché sei su Tinder, è perché vuole sapere che intenzioni hai, se sei più o meno serio oppure no. Ok, quali sono quelli più diffusi di test, Franci? Guarda, come ti ho detto prima, anche hai avuto tutte, nel mio caso, hai avuto tutte queste ragazze o fai così con tutte? Ok. Secondo me è fondamentale non prenderlo come un giudizio da parte della ragazza, ma imparare, come dici spesso tu, a leggere il sottotesto. Perché se ad esempio chiede se sei single da tanto, il sottotesto potrebbe essere, dato che mi stai interessando, non è che ti sei appena lasciato e quindi ti vuoi solo divertire con me? Assolutamente. In generale è fondamentale con le donne imparare a leggere i sottotesti, a leggere tra le righe, perché a differenza di noi uomini, loro non sono dirette nella comunicazione. Quello che dico ai miei studenti è niente panico, perché se le domande dirette sono un segnale di interesse, come noi sappiamo bene, le domande scomode sono un segnale di interesse addirittura maggiore. Infatti, se la ragazza sta arrivando a testarci, significa appunto che potenzialmente è interessata. Quindi rispondere in maniera adeguata ci fa guadagnare punti, ma allo stesso modo fallire ce ne fa perdere altrettanti. E noi abbiamo fondamentalmente tre opzioni per rispondere a questo tipo di domande. La prima è ignorare il test. Io però non la consiglio, perché è solo un po' sticipare il problema e non ti fa guadagnare punti. Oppure esagerare in maniera ironica. In alternativa ancora rigirare il test con intelligenza, portando la ragazza a chiedersi, ma che cavolo di domanda ho fatto, oppure questo ragazzo è davvero in gamba. Allora, scusami Franci, quindi passare oltre, quindi la prima opzione cosentini, cioè snobbarla proprio e cambiare discorso? Sì, cambiare argomento, però io non la consiglio, perché posticipi solamente il problema e non guadagni punti. Noi dobbiamo sfruttare questi test, che sono un'opportunità e non un ostacolo, per guadagnare punti. E lo facciamo o rigirando il tutto in maniera ironica, oppure rigirando con intelligenza. Se posso fare un esempio, la ragazza ti chiede, fermi tutte così? L'esagerazione ironica sarebbe, sì, sei la sessantesima, se arrivo a 70, vinco una batteria di pentola in acciaio inox. Invece, rigirare con intelligenza, alla stessa domanda, potrebbe essere, quindi mi stai dicendo che sei come tutte le altre? Perché io non fermo chiunque, solo quelle che mi incuriosiscono. Sì, sì, questo sicuramente è una frase che in qualche modo ribalta la situazione e fa capire la ragazza che è stata inopportuna. Diciamo che svilupparla più che altro è complesso, no? Diciamo che, non so se ti capita, ma con gli studenti chiaramente che segui, la reazione più consueta è o ignorare oppure giustificarsi. Esattamente, l'errore più grande è giustificarsi. Cioè dirle semplicemente, ma tu fermi tutte così? No, ma no, è che tu mi sei sembrata diversa. No, ma comunque no, assolutamente no. Stona, no? Perché stona? Esattamente, è proprio questo quello che intendevo con perdere punti. Perché in questo modo noi, giustificandoci, non superiamo il test. Quei punti che potevamo prendere, li perdiamo. E quindi è come se ci facessimo autogol. Sì. È un ostacolo, ma noi lo possiamo sfruttare. Assolutamente. Diciamo che la questione dell'estremizzare in chiave comica è una cosa che consigliamo e che consiglio, perché è più facile da attuare. Sono d'accordo. Anche quando questa ti chiede, ma hai avuto tutte quelle ragazze? No, estremizza in chiave comica. Quindi una roba tipo, ma quante te ne ho dette? Insomma, magari hai detto veramente un numero. Dici, no, ma quelle è dalla prima elementare alla quinta elementare. Poi ho iniziato le medie. Le medie erano quasi tutte ragazze nel mio istituto. Cioè farle capire in qualche modo che è un po' estremizzato. Il punto qual è qua? E qua ti faccio una domanda. Quando la parte comica ti fa una risata, ma lei poi vuole saperlo, che cosa fai? Quando poi lei continua e vuole insistere, quindi continua a testarci, lo prendiamo innanzitutto per un grande segnale di interesse. Ma poi là è il momento di ribaltare con intelligenza. Nel caso in cui ribaltare in maniera ironica non sia sufficiente, poi subentriamo l'intelligenza. Perché anche dal mio punto di vista è più facile esagerare in maniera ironica. Dire una cosa del tipo, la stessa domanda, dire una cosa del tipo, no sai, in realtà ho nove mogli, 47 cammelli, ed è un casino perché a volte chiamo i cammelli con i nomi delle mogli e viceversa. Chiaro, 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 certo. Come sviluppi, poi ti lascio andare, come sviluppi la parte, diciamo, seria? Cioè, la parte seria che ribalta tutto, in che modo uno studente che parte da zero la può sviluppare? Quindi leggendo il sottotesto e cos'altro secondo te? Allora, deve essere molto attento a ciò che dice la ragazza. È molto importante l'ascolto attivo, perché è in quello che dice lei che troviamo l'elemento da utilizzare come counter per farle capire che, diciamo, abbiamo appunto compreso che si tratta di un test e rigirando a nostro favore la cosa in modo tale che questa ricca, cavolo, è davvero in gamba questo ragazzo. Sì, sì. Trovare la parte razionale della frase che ti ha dato, secondo me, è un ottimo spunto. Come l'hai detto tu nel scorso di strada. Trovare la parte razionale. Cioè, razionalizza quello che sta dicendo e trova, come dico sempre, proprio una falla nel sistema dentro la quale inserirti. anche quando ti dice cosa ci facevi su Tinder. Cioè, devi capire perché, quando ti fanno un test, devi capire perché me lo sta chiedendo. Questa è una cosa importante, secondo me. Perché mi chiede cosa ci facevo su Tinder. Perché una domanda di una ragazza posta così non è mai a caso. Quindi devi chiederti perché mi sta chiedendo sta roba. E quindi da lì poi ti calibri e basi poi la tua domanda. Grazie, Franci! Alla prossima!